Musica Sono Angela Lupo, un'insegnante della scuola primaria di Inseguro. Quest'anno, con le classi terze, la quarta C e la quinta B della nostra scuola, abbiamo partecipato al progetto Il Sole in Classe. Abbiamo affrontato il tema Una vita sana e un ambiente sano con un'intervista rivolta al sindaco della città di Settimo, da cui poi abbiamo ricavato questo articolo. Ringraziamo ANTER per averci offerto questa accattivante esperienza e vi chiediamo di votarci, perché vorremmo investire il ricavato di un'eventuale vincita in nuove attrezzature per il nostro laboratorio scientifico. Grazie. Ciao a tutti amici di ANTER, votate la scuola di Seguro di Settimo Milanese perché qui, per i propri cittadini, i bambini piantano alberi e tutti gli edifici pubblici hanno impianti fotovoltaici. Ciao!